Dopo due anni di pandemia, la fiaccolata del 6 aprile dovrebbe tornare. Questa è l'indicazione di massima emersa, anche perché il 31 marzo cesserà lo stato di emergenza. Le celebrazioni del 6 aprile, 13esimo anniversario del terremoto che distrusse l'Aquila nel 2009, sono l'oggetto dell'incontro di oggi tra Comune e Prefettura, soprattutto per definire il piano di sicurezza necessario. Un programma di massima intanto già c'è. Nonostante il rialzo dei contagi nelle ultime settimane, la fiaccolata dovrebbe svolgersi regolarmente dopo uno stop forzato a causa della pandemia e celebrazioni ridotte non collettive e sono in corso già da un po' interlocuzioni con il Comitato Familiari delle Vittime. Per il primo anno, senza Antonietta Centofanti, anima delle iniziative, scomparsa prematuramente lo scorso 30 aprile. Alle 21 la fiaccolata dovrebbe partire dal Tribunale dell'Aquila come sempre per arrivare al Parco della Memoria. Finalmente, dopo 13 anni, la città è un suo luogo della memoria. Ci sono voluti ben 13 anni, dove verrà acceso un bracere alla presenza anche dei ciclisti della Nazionale Ucraina, ospitati in città già da giorni. Qui verranno letti i nomi delle vittime del sisma. A mezzanotte la fiaccolata giungerà in Piazza Duomo, ci sarà la messa nella Chiesa delle Anime Sante, celebrata dal Cardinale Petrocchi, seguirà una veglia. Alle 3.32 i 309 rintocchi nel silenzio della piazza ricorderanno le 309 vittime. Anche se aprile ci saranno i tradizionali momenti legati al ricordo e memoria. Alle 10.30 la Guardia di Finanza con la deposizione di una corona per le vittime. Alle 11 al Parco della Memoria un Open Mic, un momento nel quale ognuno in libertà potrà esprimere un proprio pensiero, un programma di massima che nei prossimi giorni potrebbe subire qualche ritocco e che toccherà, come ogni anno, anche la frazione di Onna, la più colpita del terremoto. Nei giorni scorsi il Comune ha pubblicato sull'albopretorio una delibera per approvare le iniziative del 5 e del 6. Anche il programma religioso è definito. Il 6 aprile si aprirà con una diretta matutina di Radio Maria alle 11 a celebrare nella Chiesa delle Anime Sante Monsignor Orlando Antonini, nunzio apostolico, mentre alle 18 sarà Monsignor Antonio D'Angelo, vescovo ausiliare, a presiedere l'ultima messa di giornata.